Ti piace la matematica? Se hai risposto o no, perfetto! Questo è il video giusto per te. Io sono Mania Tomassini e in questo video ti mostrerò tre libri per far chi amare la matematica. Ho cercato libri presenti sul mercato che potessero far amare la matematica a chi non la ama, farla capire a chi non la conosce ancora e farla ricordare a chi la conosce bene e vorrebbe leggere qualcosa di diverso. Prima però, sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Molti di voi mi hanno chiesto consigli sulle buone letture ed ecco qui un video apposta per voi dove vi suggerirò ben tre libri di matematica. La matematica, come ben sapete, io non finirò mai di ripeterlo e di dirlo. Non è solo per i geni o per gli addetti ai lavori. È un tesoro accessibile a tutti coloro che desiderano esplorare il potere della logica e che desiderano approfondire questa interessantissima materia. Non importa se sei un principiante o se sei un esperto. L'amore per la matematica, la passione per la matematica non ha età. Ed ecco che come primo libro partiamo dai più piccoli. Partiamo proprio dai bambini che sono i primi a cui dovremmo far amare questa materia. Il libro si chiama Come diventare mostruosamente bravi con le operazioni. Pazzi per la matematica. È un libro studiato per rendere la matematica un divertente gioco da imparare. Lo consiglio per i bambini delle elementari. Che proprio in questa fase di crescita si approcciano per la prima volta ai numeri. Con una serie di stimolanti attività i piccoli lettori impareranno i segreti delle operazioni per diventare veri e propri mostri in aritmetica. Oltre a questo libro io invito tutti i genitori che stanno guardando a cercare di rendere sempre vino strata per i loro figli la matematica. E questo è possibile perché a quell'età quando sono così piccoli i bambini sono curiosi. Sono delle spugne in grado di assorbire e imparare tantissime cose attraverso il gioco. E quindi quale migliore attività se non attraverso il gioco per imparare la matematica? Vi invito a usare la vostra creatività. Potreste fare una ricetta con i vostri figli e farvi toccare con mano le operazioni giuste da effettuare per fare una ricetta. Esempio concreto avete bisogno di tre uova ma nel frigo ne avete solo una. Quindi dovete andare a fare la spesa quante uova dovete comprare? Ci ditevi i vostri figli. Oppure avete fatto un bellissimo e buonissimo ciambellone? Lo dividete in dieci spicchi e in famiglia siete in cinque. Quanti spicchi mangerete a testa? Chiaramente all'inizio fare la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione sarà difficile per i vostri figli. Ed è per questo che apprezzeranno tantissimo il poter toccare con mano le fette del ciambellone, piuttosto che le uova, piuttosto che i biscotti, qualsiasi cosa voi abbiate in casa, per capire esattamente le quantità giuste e le operazioni. Vedrete che questi piccoli esercizi e queste attività ludiche aiutano tantissimo. E questo quindi era il primo libro che vi consiglio partendo dai più piccoli. Alziamo ora l'età e il libro che vi propongo si intitola La matematica ed età. Perché la matematica è quasi tutto. È un libro scritto da Kit Yeats. Non so se si pronuncia così, quindi metto le mani avanti prima che qualcuno scriva Eh, no, no, ma come lo pronunci? Ok, sicuramente voi lo pronunciate meglio di me. Perdonatemi, in anticipo. È un libro che su Amazon è presente sì, è formato Kindle, per gli amanti del Kindle sia in formato cartaceo. Questo è un libro davvero incredibile, perché spiega che a tutti gli effetti la matematica governa la vita di tutti i giorni. Ci accompagna da quando nasciamo a quando siamo vecchi e anziani. Si nasconde davvero in ogni aspetto della nostra esistenza. Insomma, è al centro della nostra vita. Cantiamo sotto la boccia, quella è matematica. Se afferro una palla che copie un moto parabolico, altra quella è matematica. Anzi, più precisamente è fisica. Tutto il mondo che ci circonda è fatto di matematica. La salute, la ricchezza, la giustizia, la felicità umana dipendono da algoritmi matematici. E strada facendo, pagina dopo pagina, ci insegna come possiamo prendere decisioni più consapevoli più efficaci ed evitare errori di valutazione in questa nostra società che è sempre più quantitativa. Per tutti coloro che credono che la matematica non faccia al caso loro che non sia pane per i loro denti, questo libro vi stupida. E riparare credere. E infine, l'ultimissimo libro. L'ho lasciato per ultimo perché è il mio preferito. Quando l'ho letto, mi ha davvero, davvero entusiasmato. Probabilmente farò un video apposito su questo libro perché, perché riassumerò in poche parole è davvero troppo riduttivo e merita un video apposito. Intanto, vi dico il titolo. L'algoritmo e l'oracolo. Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a cambiarlo. L'autore è Alessandro Vespignani. Ho cercato tantissimo il suo di lui proprio perché volevo conoscere meglio, volevo capire di che cosa si occupava e vi dico la verità. Volevo trovare un suo contatto e scrivergli una mail, come poi ho fatto, per complimentarmi con lui di questo libro perché per me è davvero un capolavoro. Inutile ditevi che non ho avuto risposta, però vabbè, io ci ho provato lo stesso. Di cosa parla questo libro? Racconta tantissime applicazioni reali nella matematica. Tutto parte da un virus, un'epidemia che devastava la guinea e che avrebbe contagiato il resto del mondo. Questo ricercatore riceveva una chiamata e gli aveva chiesto di prevedere la diffusione del virus con mesi di anticipo. Sì, è vero, raccontare questa storia ricorda un po' quello che abbiamo visto noi qualche anno fa con il Covid. Ma questo libro non parla del Covid e della sua diffusione. Come l'abbiamo vista in tutto il mondo, beh si parla dell'Evola. Lo scienziato e il suo team dei collaboratori si mettono subito al computer per cercare di elaborare degli algoritmi e di prevedere dei modelli matematici che riuscissero ad effettuare delle simulazioni su quella che poi sarebbe stata la diffusione di questo libro. Per ridire, il futuro è un aspetto affascinante ed è l'ossessione di tantissimi dall'alba dei tempi. Quindi cosa accadrebbe se fosse davvero possibile prevedere con largo anticipo non solo fenomeni come quelli meteorologici, ma tutta la nostra vita? Betteriamo a sé perché questo libro vi mostra che questi indovini artificiali lo stanno già facendo, stanno già prevedendo il futuro. Insomma, questo libro mi ha davvero affascinato e penso che si percepisca dal modo in cui ve lo racconto e in cui ve lo descrivo. Non voglio dirvi altro per non farvi troppo spoiler, vi consiglio vivamente di leggerlo, fatemi sapere anche cosa ne pensate, perché io come sempre leggo tutti i vostri commenti. Se siete interessati a questi libri li trovate qui nel link in descrizione. Ve li ho messi tutti e tre e il link da direttamente accesso a Amazon, che ormai sappiamo tutti essere una piattaforma utilizzata da chi comunque oggigiorno per acquistare qualsiasi cosa, pure i libri. Vi dico per correttezza e trasparenza professionale che i libri che trovate in descrizione sono affiliati. Quindi, se decidete di acquistarli o comprarli sul Kindle o ascoltarli su Audible, a me ne verrà una piccola percentuale. Non vi cambia assolutamente la vita, non divento ricca in questo modo. Spero che almeno uno di questi tre libri che vi ho suggerito vi piacciono. Se non è così, scrivetemi, non c'è nessun problema, senza insulti, per favore. Per me il dialogo e il confronto è sempre il momento costruttivo per parlare, per conoscerci, per allargare la nostra community. Se pensate che questo video possa essere d'aiuto a chi odia la matematica, a chi è scettico o a chi vorrebbe capire qualcosa in più, magari in maniera avanzata, piuttosto che tecnica e pratica, voi condividete pure il video. Sapete che non mi offendo. Prima di salutarvi, io vi chiedo, se ovviamente lo avete apprezzato, di mettere un like a questo video, ma soprattutto chiedo di iscrivervi. Non so come sia possibile, eppure dalle analisi di YouTube Studio emerge che la maggior parte delle persone che guardano i miei video non è iscritto. Ma io dico, ma che senso ha? Quindi iscrivetevi e attivate la campanella, così YouTube vi arriverà sabato prossimo, quando pubblicherò il prossimo video. Ci vediamo presto, alla prossima!